Buonasera a tutti, gentili telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Trieste in diretta. Vi presento subito il nostro primo ospite della serata di oggi, il presidente dell'AIRC, il dottor Guido Perelli Rocco. Buonasera e benvenuto nella nostra trasmissione. Buonasera, buonasera a tutti gli spettatrici e spettatori. Bentornato da noi. Dunque faccio riferimento a un articolo apparso qualche tempo fa, qualche giorno fa sul nostro quotidiano locale che diceva che con 108 milioni di euro stanziati nel solo 2019 l'AIRC, questa organizzazione insomma la conosciamo tutti, no? No Profit che è nata nel lontano 65 e oggi il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente, possiamo dirlo? Sì, assolutamente indipendente. In mano a qualcosa come 800 mila ex soci, ora sostenitori, perché si è trasformata in fondazione, quella che era un'associazione, per meglio aderire alle normative che regolano il terzo settore, in buona sostanza le attività non profit, detto chiaro, e per rendere più aderente da un punto di vista normativo all'effettività delle cose, il finanziamento alla ricerca. La intervistatrice, la signora, vi stava ricordando che noi abbiamo investito 108 milioni di euro per il 2019, le delibere che poi in realtà arriveranno fino alla fine dell'anno e forse qualche inizio del futuro 2020, in realtà questa cifra rappresenta l'86% circa degli investimenti, dei finanziamenti raccolti da varie attività, dal 5 per mille alle attività varie sui territori con le tre tradizionali festività, eventi in sostanza di raccolta fondi, costituiti dalle giornate per le azalee, per i cioccolatini, per la ricerca e le arance per la salute. Che raccolgono una cifra che sta tra i 12 e i 15 milioni di euro all'anno sull'interno territorio nazionale. Ecco, quindi grazie all'AIRC quest'anno saranno circa 5 mila i ricercatori che potranno beneficiare di questi fondi. In che modo sono suddivisi? 5 mila i ricercatori, vuol dire però coordinati da un insieme di circa 600 investigator grants o responsabili di progetti di ampia portata, o triennali o quinquennali. Gli ultimi sono stati deliberati, per esempio per i friori di San Giulia, l'ultima proprio senza... noi siamo a Trieste come sede ma abbiamo giurisdizione sull'intera regione. Su tutta la regione. E sono stati 1 milione e 250 mila euro destinati a tre ricercatori dell'Università di Udine e parallelamente circa altrettanto importo per l'esattezza ecco 1 milione e 277 mila euro su Trieste e 673 mila su Crodi Aviano che è il centro di riferimento oncologico dove si fa della ricerca di base ma sostanzialmente nella fase finale o applicativa, la traslazione dei risultati della ricerca al letto del paziente perché accrocia anche una degenza, interventi, clinica eccetera. Dei ricercatori si parlava della quantità, 5 mila e circa 600 capi progetto. 5 mila sono compresi i dottorandi, le borse di studio, i neolaureati che si stanno avviando alla ricerca, i PSD, i dottorandi post universitari per lauree di specializzazione di dottorato di ricerca eccetera. E di questi 600 circa sull'intero territorio nazionale ci sono 22 ricercatori capi progetti sul Friuli Venezia Giulia di cui circa il 50% sono solo su Trieste, suddivisi nelle tre strutture scientifiche di rilevanza internazionale oltre che nazionale che sono essenzialmente l'Università di Trieste con il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie coordinato e gestito dal professor Giannino Ressal, poi il CIB e l'ICGB che sono all'area di ricerca e il Sincrotrone dove ci sono in ogni situazione scientifica, in ogni punto logisticamente scientifico dove si fa ricerca sul cancro con finanziamenti nostri a loro favore, ci sono delle persone che collaborano anche al Sincrotrone, finanziate perché il Sincrotrone è un impianto, un'apparecchiatura che oltre ad accelerare le particelle con la produzione di un'energia luminosa fortissima permette e consente di ingigantire enormemente come qualsiasi altro strumento non permette le molecole e le proteine, le molecole e analizzare a fondo l'origine dove si sta studiando per trovare l'origine della malattia e combatterla al meglio possibile. La malattia oncologica, anzi le malattie perché sono parecchie sfaccettature delle stesse. Infatti sono tanti anche i progetti, sono diversi in vari filoni proprio di ricerca. Certo, certo. Altri ricercatori sono a Udine, all'Università e al Cro di Aviano, sono strutture scientificamente all'avanguardia con produzioni di risultati che sono spessissimo pubblicati su Science e su Nature, che sono le riviste più accreditate al mondo appunto per la pubblicazione dei risultati scientifici. Non pubblicano solo i risultati dei Nobel, ma anche di scienziati di calibro internazionale che abbiamo sul territorio, per fare dei nomi anche abbastanza, dare un corpo, una visibilità a questi ricercatori. Ci sono professori come i su Trieste, Giannino del Salg, Scheffner, il professor Collavin, Licio Collavin, la dottoressa Savoia, Dottoressa Onesti, è dell'area di ricerca del sincrotron. La dottoressa Savoia sta lavorando al burlo su certe forme di tumori infantili. Poi ci sono all'ICGB e all'Università. All'Università c'è ancora in corso un progetto portato avanti dalla professoressa Sabrina Prickle sulle leucemie o certe forme di leucemie e dal professor Manfioletti che sta lavorando su altre forme di tumori solidi. Poi ci sono dei ricercatori che lavorano anche alla Basovizza, Padriciano Basovizza, l'area di ricerca, la Zecchigna, la professoressa Zecchigna e la dottoressa Benvenuti che hanno due ognuno al proprio grant importanti su certe forme di tumori particolarissimi che hanno bisogno di impianti che hanno in queste strutture. Come dicevamo prima in diversi campi. Certo, e altri due ricercatori che sono stranieri, che sono però finanziati da AERC e che stanno lavorando all'area di ricerca, proprio all'ICGB, che sono il dottor Lorenz Brank e Dimitar Efremov. E questo per dire che se Trieste è diventata capitale europeo della scienza è per i meriti scientifici della sua struttura scientifica che agisce sul territorio, che è costituita da alcune migliaia, attorno ai 7 mila scienziati e ricercatori che operano nel campo della fisica, fisica nucleare, centro di formazione di fisica. La presenza di cui forse non tutti si rendono veramente conto, però è una presenza importantissima. È una specie di nucleo di cuneo inserito nell'addome della città di Trieste che difficilmente appare o emerge per i risultati di quello che stanno studiando e facendo. Però è stato riconosciuto grazie anche all'ESOF 2020, cioè il progetto di scelta di capitale europea della scienza che ha vinto Trieste battendo l'AIA in finale. E questo grazie alla documentazione che è stata raccolta da ESOF, compresa quella che produce, perché fa della scienza anche AERC, nel senso che la finanza la rende possibile all'interno delle strutture di cui parlavo poco fa. Infatti, leggendo proprio le informazioni a questi ricercatori, a questi scienziati, loro dicono che i finanziamenti, appunto il sostegno di AERC è fondamentale proprio. Ma questo è stato bellissimo. Poi le racconto cosa è avvenuto recentemente che ha provocato quella pubblicazione sul giornale locale, il Piccolo, ieri, è uscito ieri, sì, con la pagina della scienza. Quello che desideravo dire è parlare di capitale europeo della scienza e perché è stata individuata, oltre che per le sue qualità scientifiche, che ha insite nella propria città Trieste, dicevo, il Centro Internazionale di Fisica Teorica, la Sissa, Scuola Superiore di Studi Avanzati, al cui interno ci sono due ricercatori del CNR sull'oncologia, finanziati da AERC, tra l'altro. Poi c'è l'area di ricerca, come struttura per start-up e per ricerca di base anche, con i laboratori del Cib che si trovano là e le ricigiebi. Poi c'è la luce di sincrotrone che contribuisce, infatti ho detto c'è la dottoressa Onesti che è finanziata da noi e che lavora a tempo abbastanza consistente, con un impegno consistente per la ricerca sul cancro, perché rende possibile ad altri ricercatori che operano nel campo specifico della ricerca sul cancro, di avere delle strumentazioni che non esistono, se non in tre parti in questo momento in Europa. A Ginevra, a Trieste, come acceleratori di particelle circolari, non lineari ce ne sono molti di più, e il terzo che sta partendo in questo periodo a Barcellona e in Spagna. Ma quello che è importante è anche perché Trieste è baricentrica rispetto alle necessità di sviluppo scientifico verso i paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica. Efremov, che è un ricercatore macedone dell'Università di Scofie, opera all'interno dell'area di ricerca, ma con finanziamenti ricevuti da AERC sui progetti che sta portando avanti. Quindi noi c'eravamo già ben prima della scelta dell'individuazione di Trieste come capitale. Voglio dire, abbiamo anticipato i tempi. E avete favorito anche in qualche modo, no? Sì, certo. Perché la qualità della ricerca dipende anche dal suo sostegno. Certo, non abbiamo la potenza scientifica, ma nel nostro campo non ce ne sono uguali in Italia. Siamo i leader indiscussi nella ricerca privata e in particolare sull'oncologia, cioè nella medicina, con investimenti di quest'ordine di grandezza di cui parlavo. Ultimo, ma non ultimo nel senso degli investimenti e della qualità soprattutto, c'è anche il CRO di Aviano, Pordenone, che ha dei ricercatori di eccellente livello, a cominciare da ormai 8-9 mesi direttrice scientifica, che è una ex finanziata, parlo di quasi 20 anni fa e oltre, che poi aveva lasciato l'Italia, finanziata su progetti di ricerca, una biologa, lavorata in medicina, e credo anche in biologia, ma comunque in medicina sicuramente, e che era ricercatrice presso il CRO. E anche questo insomma è sicuramente... Era finita a Lione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ci è rimasta per 16 anni a lavorare sui progetti oncologici internazionali. Poi si è liberato il posto di direttore scientifico, è andata in quiescenza il professor Paolo De Paoli, che era il direttore scientifico del CRO, e è stata chiamata ed è in attesa di conferma, di nomina, perché si va per concorsi, eccetera, però è da quasi un anno oramai direttrice scientifica del CRO di Aviano. È un felice caso di rientro di cervelli. Sì, certo, certo, e lei coordina e dirige soprattutto la ricerca scientifica, perché poi c'è un direttore generale, ma è un direttore dell'apparato clinico, ospedaliero, o chirurgico, che è il professor Puglisi, che è arrivato da Udine, spostato sul CRO. Ma questo per dire che sono di rilevanza il piccolo Friuli, e Venezia Giulia, con il suo milione e 250 mila abitanti circa. Siamo piccoli, però in un anno arrivano 2 milioni e mezzo, e in questi ultimi anni sono arrivati circa 22 milioni. E quindi, insomma, il risultato direi che è eccellente. Direi che è abbastanza di rilievo, importante. La ricerca, lo sappiamo, insomma, l'abbiamo anche detto qui da noi, poi in particolare anche per la presenza, proprio nella città di Trieste, di tante strutture scientifiche, ai massimi livelli, ci sono anche naturalmente brillanti risultati che vengono presentati via via, insomma, negli ultimi tempi, sempre con maggiore frequenza, possiamo dirlo. Senz'altro. E questo è per parlare di ricerca e investimenti effettuati sul Friuli Venezia Giulia D'Aer. La scelta, se possiamo dire due parole, su come vengono selezionati i progetti di ricerca... Sì, esatto, perché sono molto vari. L'avevo già detto anche in occasione di un'intervista precedente. La ricerca è fatta su una base assolutamente e disclusivamente meritocratica. E questo per chiudere possibili interferenze di altro ordine che possono avvenire, oppressioni politiche o sociali o economiche di altro genere della natura. È sicuramente un ottimo criterio. E questo principio, che porta al merito come elemento fondante e fondamentale per la selezione, è basato sul peer review e in buona sostanza ogni progetto che riceve ARCA sono circa 3.500 e 2.000 progetti anni in media, uscillano attorno ai 1.600, 1.700, 1.800, secondo delle annate, che vengono presse da tutta Italia e non solo su richieste di contribuzione di investimento per le loro ricerche. Vengono preselezionati dalla direzione scientifica, che è unica e centralizzata a Milano, con un direttore scientifico, il professor Caligari Scappio, che è stato per molti, molti anni negli Stati Uniti, nelle più importanti centri di ricerca nel mondo, Stanford, Harvard, e poi è rientrato in Italia, in Europa, anzi passando credo per Berlino e poi è arrivato in Italia per fare il direttore scientifico prima della San Raffaele a Milano e ora è da tre anni circa, tre anni per l'esattezza, da febbraio del 2016, il direttore scientifico di ARCA e che coordina i principi di selezione, eccetera. Dicevo, vengono i progetti preselezionati da Milano, diciamo che a occhio, ma occhio per modo di dire, un occhio scientifico evidentemente, c'è una struttura di direzione scientifica con persone che sono state a loro volta ricercatori, eccetera, per la preselezione. E poi si screma e si arriva normalmente a circa un 50%, diciamo che sono... Rispetto a quelle che sono le richieste, insomma, la possibilità. Sì, 7-800 progetti o 800-900, secondo negli anni, che vengono passati avanti alla procedura vera e propria di selezione, che è basata su una selezione fatta da tre ricercatori, di cui uno italiano, che deve essere stato a sua volta un ricercatore finanziato da ARCA, per più, una o più volte, e due ricercatori stranieri, che vengono e cominciano a analizzare i singoli progetti, partendo dall'esame di chi è il relatore, cosa ha pubblicato nella sua vita, dove ha pubblicato, e andando a verificare tutti questi passaggi in termini di pubblicazioni scientifiche. Perché... C'è una selezione molto rigorosa. Appunto, per questo si sottolinea, perché è fondamentale in questo periodo di turbolenze di tutti i tipi, dai migranti piuttosto che alla scienza o alle fake news o cose di questo genere, perché in scienza ci sono anche quelle di personaggi particolari che mi lantavano di aver scoperto la chiave, aver trovato, individuato scientificamente, ma era una scienza loro, personalizzata, non reale, delle chiavi per la soluzione dei problemi oncologici. In realtà, così facendo, si arriva ad avere una quasi assoluta garanzia, direi assoluta garanzia a questo punto, di autonomia e di meritocrazia. E se il procedimento inizia in gennaio, entro marzo devono pervenire a Milano i progetti di ricerca, entro giugno comincia la preselezione fatta da Milano e man mano viene effettuata quelli che vengono ritenuti idonei a passare alla fase completa di esame per accedere poi al finanziamento, si arriva fino a giugno e poi tra giugno e ottobre, novembre si inizia a derogare i piani e a decidere su quali sono i progetti a livello di consiglia di amministrazione che era composto da 36 persone, ora è composto da, essendo stata effettuata la trasformazione giuridica da associazione di fondazione, da un consiglio di amministrazione composto da 5 a 7 persone scelte con particolare riferimento in futuro soprattutto, a 9 persone, scusa ho sbagliato, e attualmente sono 7. Per scegliere queste persone si è pensato a criteri inseriti nello statuto della fondazione, questo principio con presupposti di natura culturale, scientifica e di comportamentale, di rettitudine, di idoneità ad entrare a far parte del consiglio e dell'amministrazione di questa struttura. Detto questo, per dire che adesso si snellisce la governance, si è compattata e resa più reattiva rispetto alle dinamiche scientifiche nel mondo intero. In più ci sono dei progetti anche che sono a livello nazionale e internazionale, di, come, eccolo qui, con il cosiddetto progetto un bando tra tre europee a cui hanno partecipato tre strutture di ricerca europee sul cancro che sono la Cancer Association del UK, inglese, AIRC per l'Italia e io non conosco lo spagnolo ma l'Associazione Spagnola contro il cancer, cioè contro il cancro. È chiaro, sì. Con 33 milioni di euro, 11 milioni per ognuno di questi paesi per paese hanno creato un'accordata per una ricerca specialistica su certe forme di tumori al seno particolari perché oramai è risorta la possibile chiamiamola guarigione forse più proprio parlare di guarigione in certi casi effettivamente per il tumore al seno si può cominciare a parlare ma senza illudere nessuno però si preferisce parlare di un miglioramento ampliamento considerevolissimo delle aspettative di vita del paziente ecologico cioè probabilità di sopravvivere oltre le aspettative di vita normale per un sano capito quindi chiarissimo certo non è una passi in avanti davvero da gigante e con questi tre progetti o con un unico progetto finanziato da questi tre enti 33 milioni con contributo paritetico però c'è da dire una cosa che la scelta del coordinatore del progetto che riguarda i tre paesi che devono collaborare insieme è stata affidata a questa scelta ad architalia ad architalia quindi insomma una bella responsabilità ma anche noi sottolinea la qualità il riconoscimento europeo a livello europeo della qualità e mondiale della qualità della ricerca svolta da ricercatori selezionati con i criteri italiani e che operano abitualmente in Italia in Italia non so se questo per noi per me che sono un volontario certo sicuramente siamo tutti volontari ad eccezione di delle persone che lavorano a Milano che sono dipendenti ma noi no sul territorio e ci spendiamo per questa attività Presidente lei prima ha parlato anche dei vari metodi insomma di finanziamento dell'AIRC però so che avete anche dei testimonial davvero d'eccellenza anche in questo caso e ci sarà un appuntamento anche qui a Trieste con un cantautore straordinario sì certamente questo avverrà con un concerto straordinario per noi finalizzato a raccogliere fondi chiaramente al Teatro Rossetti di Trieste il 18 maggio di quest'anno alle ore 21 sì non vorrei sbagliare no ore 20 e 30 scusate perché inizialmente era stata annunciata come 21 correggeremo alle 20 e 30 l'orario comunque insomma in scena Paolo Conte certamente con l'aiuto del nostro sponsor istituzionale che è da poco tempo per questo tipo di eventi non c'è problema non si preoccupi perché intanto siamo in conclusione non è un problema che è Banca Popolare di Milano BPM che ci ha messo in discussione i fondi per favorire questo tipo di cose di eventi posso dire che ad oggi siamo arrivati in pre vendita a quasi 800 biglietti venduti su una potenzialità massima del teatro di 1500 quindi siamo non moltissimi imposti disponibili abbiamo superato il 50% del confidiamo di fare sold out a circa due mesi insomma dall'evento quindi è davvero poi ci sarà un po' di spinta per gli ultimi ma temo temo per gli ultimi che rischieranno di rimanere esclusi perché non sono arrivati in tempo allora fate e in più ci abbiamo come testimonial ma questa è una chicca nostra del Fiorio Venezia Giulia che nel nostro comitato c'è anche Margherita Grambassi con noi che è testimonial per alcune campagne di ARC e quelle nazionali e con noi partecipa all'attività locale e non solo ma anche con eventi come l'anno scorso il foot golf a grado che si ripeterà quest'anno il 22 23 di giugno sulla spiaggia di grado il gioco del golf anziché praticato con le mazze tradizionali con un pallone da calcio e con buche di diverse dimensioni rispetto alla buca classica e sulla spiaggia col coinvolgimento della popolazione di turisti e di professionisti e la partecipazione di striscia della notizia altra trasmissione molto popolare per raccogliere il più maggiore consenso possibile allora io ringrazio molto il presidente ARC per essere stato con noi quest'oggi e lo invito a tornare a trovarci presto per parlarci delle vostre prossime iniziative perché ci sono iniziative che sono già in fase avanzata di progetto che prima dell'estate dovrebbero trovare corpo sempre sul piano della divulgazione scientifica di quello che noi facciamo e come lo facciamo con forse anche personaggi importanti bene ce ne parlerà a livello nazionale ecco ma a questo momento non posso fare nomi e date precise interlocutori ma dovrebbe essere una cosa molto molto grossa a livello economico e cioè degli interpreti dell'evento grazie allora ce ne parlerà la prossima volta intanto lo salutiamo e fra poco continueremo a parlare di salute con la nostra prossima ospite a fra poco grazie buonasera bentornati in diretta a 3S in diretta vi presento subito la nostra nuova ospite è la dottoressa Monica Costantini specialista in ossetrice e ginecologia buonasera grazie buonasera buonasera benvenuta nei nostri studi abbiamo invitato la dottoressa perché domani domani sera ci sarà il secondo incontro organizzato dalla sesta circoscrizione insieme all'Anvolt intitolato insieme è tutto più facile allontaniamo le paure un bellissimo titolo secondo me allora ci spieghi un pochino di che cosa si tratta dottoressa allora con l'Anvolt e con la sesta circoscrizione del comune di Trieste stiamo organizzando delle conferenze rivolte alla popolazione generale quindi aperta a tutti è gratuito l'ingresso dura circa un paio d'ore e ci sono diversi professionisti che si alternano nel parlare di problematiche inerenti la salute proprio perché per l'Anvolt a cui io dove io collaboro per noi salute non è semplicemente siamo d'accordo con l'organizzazione mondiale della sanità non è semplicemente assenza di malattia ma è proprio un completo stato di benessere psichico fisico e sociale delle persone quindi anche consapevolezza esatto e infatti la cosa su cui noi puntiamo è quella di far conoscere alla gente in maniera molto semplice quali possono essere anche determinati stili di vita o certi accorgimenti quali sono gli screening a cui possono di cui possono su cui possono fare affidamento per cercare di prevenire certe complicanze che invece poi se trascurate se adattato allo stile di vita sbagliato può portare a delle serie complicanze di salute propria ma anche a livello familiare bene e questo è dicevamo il secondo incontro in questi casi a che diciamo fascia d'età vi rivolgete di solito nei vostri incontri e in questo in particolare allora gli incontri questi sono aperti e quindi parleremo veramente dai 18 ai 70 anni poi ci sono alcuni incontri che invece sono più più precisamente rivolti ai ragazzi piuttosto che alle donne in menopausa per esempio questo è il secondo perché il mese scorso è stato fatto il primo che era forse rivolto più alla popolazione più giovane nel senso che abbiamo parlato di stili di vita che possono influenzare la fertilità e quindi anche l'andamento della gravidanza che è un argomento che abbiamo già affrontato anche al Trieste Next lo scorso autunno e parlando anche con i bambini delle scuole anche bambini delle scuole medie è stato veramente molto istruttivo per me e anche per loro spero per lei anche perché magari si è resa conto di quale è il livello magari di conoscenza di certe problematiche nelle varie fasce della popolazione esatto infatti anche in questo periodo stiamo anche facendo delle piccole conferenze nelle scuole superiori affrontando temi soprattutto che riguardano le infezioni sessualmente trasmissibili cercando di dare di fornire a questi ragazzi gli strumenti per evitare di incorrere in dei momenti sventurati della loro vita in una fase della vita in cui si dà tutto troppo per scontato forse in cui ci si sente anche un po' invincibili ma invincibili non siamo e magari degli atteggiamenti sbagliati avuti adesso che hanno neanche vent'anni si possono ripercuotere poi nella loro vita futura quando penseranno di avere una gravidanza eccetera e andando proprio nelle scuole ci siamo resi conto che il livello di conoscenze e di consapevolezza di quelli che sono i rischi del rapporto sessuale soprattutto in giovane età soprattutto quando ci sono rapporti un po' promiscui sono veramente molto molto bassi abbiamo riscontrato la necessità da parte di questi ragazzi di avere qualcuno con cui confrontarsi qualcuno a cui fare domande e abbiamo avuto un buon riscontro da parte loro nel momento in cui sono si sono mollati perché all'inizio stanno sempre un po' bisogna riuscire a entrare in contatto a entrare in contatto però poi insomma questi incontri danno buoni risultati esatto in termini di conoscenza di apprendimento infatti venendo poi invece all'incontro di domani sera poi magari anche diciamo dove come quando per invitare anche la popolazione esatto rispettiamo al MIB al palazzo Ferdinandeo sala assicurazioni generali è un posto bellissimo fra l'altro esatto speriamo che siate in tanti così potremo fare altre di questi incontri in sale così belle perché non sempre abbiamo queste possibilità non sempre si può e parliamo alle 17 sì alle 17 e parliamo più precisamente domani di patologie ginecologiche e urologiche quindi parleremo della prevenzione dello screening del cancro della cervice poi parleremo comunque di infezioni sessualmente trasmissibili e volevamo anche proprio mostrare alla popolazione quello che abbiamo ricavato da queste esperienze nelle scuole e poi ci sarà anche una parte con una collega urologa che si occuperà in maniera più preponderante della parte maschile così anche i maschi si sentono coinvolti se no poi le ginecologhe è chiaro insomma è vero che c'è un po' di differenza anche nella prevenzione purtroppo tra maschi e femmine siamo più attenti noi di solito per tradizione proprio diciamo che la donna si fa vedere prima o dopo dal ginecologo il maschio aveva un unico appuntamento che era la visita di leva in cui non c'è più neanche quella per cui e quindi lasciate un po' se stesse le problematiche è bene intercettare soprattutto nelle fasce giovanili quindi sarete più relatori immagino non soltanto lei vedo anche altre specialiste in ossetricia e ginecologia in urologia e anche una nutrizionista si è la nostra nutrizionista che collabora con l'Anvolt che si occupa è il nostro team manager praticamente che organizza è molto molto attiva e in più si occupa anche di preparare delle diete speciali nei casi in cui ci siano necessità particolari oncologiche o comunque psicologiche che rendono necessario l'intervento anche appunto dell'aspetto della dieta insomma di quello che il paziente o la paziente può o non può mangiare allora questo è l'incontro ma l'Anvolt insomma vogliamo raccontare anche ai nostri telespettatori lo dicevamo accennavamo prima si occupa di diffondere insomma anche oltre a assistere proprio le persone che sono interessate purtroppo alle patologie tumorali anche proprio di informazione di comunicazione molto presente l'Anvolt nasce circa 35 anni fa proprio da un gruppo di persone che sono state spinte a unirsi per porre un aiuto per tirare fuori un aiuto verso i malati oncologici quindi nasce come associazione nazionale volontari lotta ai tumori e quindi si occupa inizialmente si occupava del trasporto dei malati delle cure domiciliari queste cose qua gli aspetti proprio più pratici possiamo dire esatto ed è nata così poi si è diffusa a livello nazionale qua in Friuli abbiamo due sedi una Trieste e una Udine la nostra sede di Trieste è qua da più di 10 anni in Viale Miramare 3 certo l'abbiamo anche visitata insomma è una realtà molto presente avete anche dei nuovi ambulatori se non sbaglio abbiamo anche dei nuovi servizi degli strumenti adeguati insomma abbiamo un buon macchinario presente in ambulatorio con cui che utilizziamo per fare le visite ci occupiamo di prevenzione ginecologica urologica da poco è stato aperto l'ambulatorio di urologia e dermatologica ci sono tre dermatologi cinque ginecologhe e un'urologa che prestano la loro attività in maniera volontaria e il cuore di questa associazione è la Antonietta Falciano che ci tiene tutti uniti come una grande mamma è vero molto attiva e poi un sacco di volontarie che si alternano che si occupano di gestire tutto quanto di chiamare le pazienti eccetera si basa tutto su le donazioni dei cittadini e delle istituzioni noi facciamo questo ambulatorio di prevenzione parlo del mio quindi di prevenzione ginecologica eseguendo pap test ecografia e visita ginecologica però oltre a tutto questo servizio di screening di base sulla popolazione generale quindi diamo la possibilità a tutti di accedere a delle cure certo quello su cui poi ci stiamo proprio investendo tempo è proprio su quello della prevenzione a livello della popolazione generale quindi organizzando queste piccole questi piccoli congressini conferenze incontri andando nelle scuole partecipando insomma proprio a livello territoriale in maniera cerchiamo di essere presenti di essere presenti un po' un po' ovunque proprio per diffondere come dicevamo prima la conoscenza dottoressa quanto i pazienti la popolazione diciamo in generale triestina è consapevole di quelli che sono gli strumenti di prevenzione che ha a disposizione magari anche in qualche caso gratuitamente magari tanti non lo sanno insomma ci sono tante possibilità in vari campi anche nel suo in particolare nel mio particolare io posso dire solo che dobbiamo ritenerci fortunati perché per fortuna il servizio sanitario triestino del Friuli Venezia Giulia funziona molto bene quindi esiste lo screening per esempio del pap test su base regionale con una chiamata ogni tre anni solo che magari le donne non sanno a cosa serve il pap test e quindi magari pensano che ah si ho fatto il pap test è tutto a posto non devo fare nient'altro no perché il pap test è mirato per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero ecco soltanto per quello solo per quello fare il pap test non vuol dire che non ti devi sottoporre o una visita e non devi fare un'ecografia chiaro perché ci sono cose che si vedono col pap test e altre che si vedono con la visita o con l'eco per cui è importante associare le cose è chiarissimo quindi tentate insomma di diffondere anche l'informazione su questo fronte come fare correttamente date informazioni anche sulla cadenza periodica esatto cerchiamo di abituare le persone a ripresentarsi anche perché se io oggi sto bene non vuol dire che fra un anno e mezzo non sarà successo niente per cui è importante che le persone si abituino a fare uno screening su base spontanea del loro benessere proprio per mantenere questo benessere come è importante secondo me andare ad agire sulla popolazione giovane nel cercare di prevenire quelle che possono essere poi le complicanze che possono portare a un'infertilità oppure una sterilità o a delle complicanze in gravidanza perché molto spesso soprattutto nei giovani c'è molta ignoranza delle conseguenze a lungo termine ecco ma lei ha parlato prima di stili di vita proprio esatto sì anche su non solo sulla prevenzione l'uso del preservativo nei rapporti sessuali eccetera ma anche per esempio l'abitudine al fumo l'alcol l'utilizzo di altre sostanze stupefacenti può essere molto rischioso per la salute anche riproduttiva delle persone anche riproduttiva e può dare problemi anche in eventuali gravidanze esatto sia nel maschio che nella femmina in tutti e due in tutti e due quindi non c'è molta conoscenza insomma soprattutto tra i giovani è vero che c'è un po' questo gap generazionale sanno tanto di tante cose ma non si conoscono poco non si conoscono dal punto di vista anche anatomico personalmente è chiaro non conoscono il funzionamento del proprio corpo in questo senso e non si conoscono tra di loro tante volte cioè i ragazzi abbiamo notato che i maschi sanno molto poco di come è la fisiologia femminile e di cosa può succedere se magari hanno dei rapporti non protetti eccetera è chiaro quindi insomma è bene abbattere questo muro di ignoranza bisogna sfondare per fare una seria prevenzione quindi vi aspettate insomma che domani ci sia una piccola folla speriamo soprattutto giovani ma diciamo è aperto a tutti a tutti a me piacerebbe tanto anche parlare a quei genitori che magari a certe volte negano il consenso ai propri figli per assistere a certe piccole conferenze nelle scuole c'è ancora tanto di questo ci sono resistenze da questo punto di vista quindi insomma è bene che vengano prima loro a sentire di che cosa si sta parlando per non avere paura infatti il titolo è proprio insieme è tutto più facile allontaniamo le paure è proprio questo l'obiettivo che avete anche così vincere i tabù in qualche modo esatto vorremmo andare oltre a questo problema e l'altra fascia d'età a cui ci rivolgeremo con altre conferenze prossimamente è la donna in età fertile e soprattutto per quello che riguarda il rischio per esempio di avere patologie che possono proprio essere molto controproducenti per la salute generale della donna parlo per esempio delle endometriosi che è ancora una patologia che tante non sanno neanche cosa sia invece ci stiamo rendendo sempre di più conto che è molto molto frequente e poi per arrivare anche alle donne over 50 che non è la fine cioè non è che da là basta perché non ho più le mestruazioni la mia vita è finita non mi faccio più visitare esatto non è così non è proprio così perché possiamo puntare alto immagino ci sono anche delle novità che poi offre la scienza proprio per affrontare questo delicato periodo immagino anche perché ormai con la nostra aspettativa di vita viviamo più di 30 anni della nostra vita e meno pausa vogliamo proprio viverli male no perché perché si può evitare sappiamo che qui a Trieste la popolazione diciamo anziana ma comunque di una certa età ecco diciamo così per non offendere nessuno è molto cospicua insomma quindi è rivolto anche a loro anche a questa fascia d'età senza dimenticare naturalmente la popolazione maschile perché a questi incontri forse vengono più donne o l'avete riscontrato diciamo che le donne sono sempre un po' più interessate l'uomo ha sempre un po' altro da fare spero che mi smentiate che siate in tanti numerosi domani no? anche perché si parlerà da un punto di vista maschile di un argomento che non è così conosciuto e quindi la mia collega avrà un bel po' da spiegare domani un bel po' sicuramente quindi attendiamo insomma numerosi ricordiamo ancora una volta al palazzo del Ferdinandeo insomma quindi nel grande salone delle generali alle 17 per questo incontro organizzato lo ricordo ancora una volta lo ricordiamo perché ne parlavamo proprio con la presidente della sesta circoscrizione Enrichetti qui nei nostri studi quando è stata ospite di questo appuntamento quindi ricordiamo anche questo intervento della circoscrizione che è sempre molto attenta a questo tipo di iniziative ne parlava proprio con entusiasmo e dell'ANVOLT naturalmente l'ANVOLT l'associazione nazionale volontari lotta contro i tumori qui di Trieste prossimi appuntamenti velocemente perché non abbiamo moltissimi ci sarà ancora un'altra conferenza al mese prossimo a Muggia se non mi sbaglio e poi credo ce ne sia ancora una ma non mi ricordo la data sinceramente comunque sempre qui nel territorio diciamo stiamo girando un po' nella provincia di Trieste domani tra l'altro sarà anche presente una delle dottoresse delle dermatologhe che mostrerà come si fa uno screening anche delle patologie dermatologiche quindi dei NEI eccetera per chi ha piacere di anche fare qualche domanda c'è anche questa dottoressa è a disposizione non parlerà non è tra quelle che presentano domani perché esula dal suo argomento però è lì a disposizione di chi avesse necessità di approfondire l'argomento e purtroppo appunto siamo primi nelle classifiche dei tumori della pelle quindi sicuramente anche questo è un argomento che interessa molte persone allora io ringrazio molto la dottoressa dell'ANVOLT per essere stata con noi quest'oggi e la invito a tornare a trovarci presto per parlarci delle prossime iniziative sempre a favore della prevenzione grazie e noi ci fermiamo qui per quest'oggi per quanto riguarda Trieste in diretta chiudiamo un pochino prima perché oggi c'è l'ultima puntata la puntata speciale del nostro grande successo di Maccette quindi diamo spazio al divertimento e allora invece noi ci rivediamo alle sette e mezza alle diciannove e trenta con il telegiornale grazie a tutti e buona serata buonasera grazie a tutti grazie a tutti